Grazie a tutti per tutti i bambieri, una selezione di diversi stili di arti naziali, c'è un sito long della scuola del maestro Rika Wing, il rappresentante d'Italia è Luigi Bambieri, Teci Rumun, una forma di teci che nasce di monasteri cinesi, lo stile hongara del maestro Cionicheon, il rappresentante d'Italia è Giuseppe Tuttolo, e lo stile Reci Yang, sempre per Giuseppe Tuttolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.